Quasi un anno di lezioni in aule sul campo per apprendere i segreti dell'ulivicoltura nell'area del Sulcis. Il ciclo di incontri che, da maggio fino a marzo 2024, è stato organizzato dalla sede di Giba dell'Agenzia Laore in collaborazione con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Pisano. A disposizione per i corsisti ci sarà l'aula consigliere del municipio. Gli incontri sono rivolti prioritariamente agli imprenditori e coadjuvanti agricoli e ai giovani che intendono intraprendere l'attività agricola. Tra gli argomenti che saranno trattati i principali riguardano la gestione della pianta e del suolo, la difesa delle principali avversità, la qualità delle produzioni, l'analisi sensoriale degli olievo e le proprietà nutrizionali e salutistiche degli olievo. Gli incontri, di carattere teorico e pratico, si svolgeranno in aula e in campo secondo un calendario che verrà diramato a breve. Le lezioni pratiche si svolgeranno in alcune aree olivicole del Sulcis. Al corso potrà prendere parte un numero massimo di 90 partecipanti.